Costruire luoghi di identità urbana è stato il tema dell'ultimo incontro dell'iniziativa L'Università va al mare non solo, organizzato da Fondazione Flaminia in collaborazione col polo scientifico didattico dell'Università di Ravenna. L'obiettivo è quello di far sì che le persone che vivono in un luogo prendano coscienza e conoscenza e quindi in qualche maniera imparino a guardare il luogo dove vivono perché in qualche maniera spesso siamo ciechi di fronte alla realtà che ci circonda nel senso che abbiamo perduto i codici di dialogo e di relazione con la realtà fisica nella quale siamo inseriti. Questo dal punto di vista sia urbanistico ma anche dal punto di vista di chi vive un luogo estremamente impoverente nel senso che qualsiasi gesto, la città è formata da gesti singoli, da gesti di tante persone che sommati danno un'immagine unitaria che è quella della città. Oggi si fa fatica a decodificare i caratteri propri del luogo e quindi a instaurare una relazione proficua con il luogo in cui si abita. E che cosa magari spesso abbiamo sotto gli occhi e non ce ne accorgiamo? Beh, propri caratteri, nel senso che è un luogo, noi siamo ormai abituati a pensare che una città sia più o meno uguale all'altra, che le nostre periferie sono spesso identiche, possiamo costruire una cosa in una città oppure in un'altra che praticamente non si vede e invece questo è sbagliato nel senso che ogni luogo ha delle peculiarità, ogni luogo ha dei caratteri che lo connotano, ha delle luci, ha dei colori, ha delle ombre, ha dei profumi che ne esaltano il carattere locale e in qualche maniera l'intervento antropico, l'intervento umano deve inserirsi dentro quello che in qualche maniera è la base, il strato naturale su cui appunto va a appoggiarsi la cultura.